Quanta urgenza c'è nel portare avanti questo percorso? È urgentissimo perché la comunità scientifica è in grande allarme già da almeno 15 anni, quindi siamo già indietro di 15 anni. Dobbiamo assolutamente intervenire in qualche modo, la politica nazionale, le associazioni, in questo caso il Consiglio regionale, è un'associazione sensibile a questi problemi. Bisogna assolutamente intervenire perché stiamo assolutamente deteriorando questa società sotto tanti aspetti. Tutti i problemi sociali vecchi e nuove che ci sono in questa società sono assolutamente portati alle estreme conseguenze. Ma il problema che si aggiunge oggi è che stiamo perdendo capacità intellettive e cognitive. Nelle scuole gli insegnanti se ne sono accorti già da tanto tempo. Cioè i ragazzi hanno meno capacità di attenzione, meno capacità di apprendere. Stiamo portando avanti una generazione di ragazzi meno intelligenti. Addirittura la comunità scientifica ci dice che a livello cerebrale, a livello proprio fisico, lo sviluppo del cervello si sta alterando. Si sta sviluppando di più la parte della memoria e di meno la parte cognitiva. Grande allarme. Come è organizzato questo progetto? Siamo in 20 tappe? Sì, per adesso facciamo 20 tappe. Sono incontri che io già portavo avanti in passato. Adesso lo facciamo con l'associazione Marco Vive che si è dimostrata molto sensibile all'argomento. Il Consiglio regionale. Sono 20 incontri che facciamo nelle Marche. ma pensiamo già di fare qualche cosa anche più avanti perché questa ormai è una missione. Dobbiamo assolutamente intervenire, come dicevo prima, a fare qualche cosa. Grazie. Grazie.